Non avendo tutti i denti, cioè non avendo i molari, non riuscivo neanche a mangiare. La clinica di Otropalmas l'ho conosciuta tramite una signora, un'amica che conoscevamo, che lei era venuta, prima era venuta lei, poi sono venuti i figli, i generi, mi ha portato tutta la famiglia qua. Li stavo perdendo, addirittura li stavo togliendo a Sassari, però non mi sono soddisfatto, allora sono venuta qua, qua mi sono trovata molto bene, ho conosciuto il dottor Palmas a Bucarest, addirittura mi ha fatto i complimenti per i miei occhi, è una cosa molto bella, addirittura li ha messi anche mio marito qua, lui li ha messi a Bucarest, li ha messi anche lui, mi sono trovata molto bene, sia con la clinica che col personale anche, sono molto bravi, molto gentili.